benvenuti nei podcast di intesa san paolo on air un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto benvenuti in mentor del futuro su intesa san paolo on air sono alberto mattiello e con la mia voce vi accompagnerò nel mondo delle start up come nasce un'idea come si raggiunge il successo perché è importante avere a supporto le persone giuste in questo podcast abbiamo approfondito il tema incontrando alcune delle start up a protagonista di be heroes un programma di accelerazione mentorship e investimenti realizzato in collaborazione con intesa san paolo abbiamo parlato con gli imprenditori e i mentor che li hanno seguiti in questo percorso di crescita aiutandoli a raggiungere il successo ma allora in quest'ultima puntata iniziamo dando qualche dato interessante sul mondo delle start up soprattutto per quello che è successo a questo mondo dopo l'avvento della pandemia secondo il census bureau a luglio del 2020 negli stati uniti il numero di domande per avviare un'impresa ha raggiunto i suoi massimi storici aumentando del 95 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 e l'italia l'italia ha risposto per esempio con 53 start up innovative che sono state presentate al cs di las vegas del 2021 quindi il cs di las vegas se non lo conoscete è probabilmente l'evento più importante dell'anno per la presentazione di innovazione all'interno del quale tutti gli anni le start up si si presentano e per la prima volta l'italia è arrivata con una compagine così ampia allora la pandemia è ovvio che è stato un grande acceleratore c'è uno studio di un economista austriaco joseph schumpeter che negli anni 30 aveva descritto proprio questo fenomeno di come le crisi economiche siano dei periodi di distruzione creativa in cui proprio nascono nuove idee e nuovi modi per fare affari allora alla fine del 2020 più o meno 10 milioni di piccole imprese sono state chiuse o temporaneamente o definitivamente innescando il fenomeno della distruzione creativa molte aziende infatti sono rinate hanno imparato a utilizzare il digitale molti dei dipendenti grazie a queste nuove tecnologie hanno avuto il coraggio di lanciarsi aprendo le proprie start up ma che cos'è una start up ce lo chiediamo in quest'ultima puntata perché è importante focalizzare su quelli che sono le sfumature di questo fenomeno della vita dell'impresa allora per alcuni è un'iniziativa imprenditoriale che serve a realizzare un prodotto nuovo destinato però a cambiare la storia quindi comunque con una vocazione epocale io prendo anche una definizione di una persona influente nel mondo della silicon valley ha scritto molti libri come link start up lui si chiama steve blank e lui per esempio identifica le start up come un'organizzazione temporanea che ha lo scopo di cercare un business model scalabile e ripetibile allora per me quando è una start up allora il mio parere molto vicino ovviamente quello che pensa steve blank per me la start up è un'azienda che a un certo punto smette di cercare il proprio il proprio business model però la versione di steve blank ovviamente è molto più accurata anche perché dentro ci sono una serie di parola chiave che fondamentale ovviamente andare a identificare il fatto che sia temporanea è un punto fondamentale temporanea significa che start up è una fase della vita di impresa non si può essere start up per sempre o comunque la start up deve avere nell'animo la capacità di vivere no il proprio mercato come se fosse sempre nuovo ma non può continuare a vivere nella modalità con cui le start up crescono quindi nella ricerca ovviamente di finanziamenti e di ricerca di crescita esponenziale il fatto che sia scalabile questo è un punto importante perché le start up nascono con l'idea di una crescita doppia cifra di una crescita esponenziale non lavora con l'idea di una crescita organica ma soprattutto ripetibile quindi il fatto che tutto quello che che viene viene creato possa essere ripetuto all'interno di aree geografiche diverse o in periodi temporali diversi ma allora tante volte a me viene chiesto ma una pizzeria una pizzeria può essere una start up e la mia risposta è perché no la pizzeria può essere una start up nel momento in cui ha queste caratteristiche quindi per esempio immagina una modalità di vendita completamente innovativa o il proprio prodotto viene ridisegnato in una modalità innovativa e ovviamente ha bisogno di un periodo per capire come questo può effettivamente generare valore all'interno di un mercato ma una domanda che non so se vi siete mai fatti ma quando sono nate le start up qual è stata la prima delle start up allora in preparazione di questo ultimo di questo ultimo episodio di mentor del futuro ho cercato e l'indicazione che ho trovato è che probabilmente la prima start up sia stata la fabbrica di carta che è stata realizzata a bagdad nel 793 dopo cristo allora la carta in quel momento era un materiale che era ancora ignoto al mondo occidentale agli europei e ci vorrà ancora molto tempo prima che la carta arrivi all'interno del nostro del nostro mondo ma la ricerca è riniziata molto prima in cina dove probabilmente già nel secondo secolo dopo cristo era stato inventato appunto questo nuovo materiale quindi lì avevano capito che si poteva andare oltre il papiro utilizzando varie fibre vegetali il risultato era stato un materiale molto leggero malleabile le cui caratteristiche ovviamente erano state comprese subito dall'impero cinese che infatti aveva mantenuto il monopolio e soprattutto la chiusura verso gli altri paesi per diversi secoli prima che poi questa innovazione fosse sdoganata e industrializzata a bagdad bene questo se ci pensate un processo tipico del mondo delle start up esiste una ricerca esiste una protezione della della ricerca esiste una fase di scalabilità internazionale di industrializzazione del prodotto e quindi di commercializzazione ecco alla fine la carta può essere immaginata come la prima delle start up a questo punto torniamo alla vita del del di questo di questi fenomeni delle start up la vita delle start up hanno a al centro la capacità di essere supportate da vari programmi be heroes è un programma di accelerazione dove l'attività di mentorship ovviamente un'attività chiave per aiutare le start up con una visione esterna a capire dove andare ma ovviamente oltre ai programmi di accelerazione esistono i programmi di incubazione ma esistono anche per esempio gli start up studios allora mentre i primi due fenomeni sono più conosciuti di start up studios per chi è fuori dal mondo delle start up magari un fenomeno un po più oscuro allora magari vale la pena condividerlo e raccontarlo in questo contesto qual è il principio fondamentale che gli start up studios lavorano esattamente al contrario dei programmi di accelerazione di incubazione che cosa significa che un programma di accelerazione di incubazione parte da uno start up che ha un'idea ha un team magari ha già fatto un prototipo ha un business plan e ha bisogno del supporto per portare la sua innovazione sul mercato e quindi a crescere gli start up studio lavorano al contrario cioè gli start up studio sono dei sistemi che fanno scouting delle idee che compaiono all'interno dei mercati e nel momento in cui individuano un'idea interessante la copiano e quindi costruiscono dei business case magari fuori dal mercato all'interno del quale questa si sta sviluppando e quindi partono dall'idea e attorno all'idea costruiscono il team che lo può sviluppare quindi il finanziamento non va a un team con una persona che ha avuto una propria idea ma va un business case alla quale viene aggregato un team per farne lo sviluppo. In questo momento ci sono più o meno 600 start up studios in tutto il mondo e la verità è che hanno degli effetti sia di crescita si parla più o meno del 700 per cento gli ultimi otto anni di crescita di questo fenomeno ma soprattutto grandi tassi di successo perché per esempio se mediamente il 20 per cento delle start up fallisce durante il primo anno di incubazione nel caso di start up studio si parla più o meno dell'otto nove per cento. Ovviamente sono due modi completamente diversi opposti di intraprendere un'impresa un'impresa start up ovviamente sono modi complementari che servono a portare avanti il mondo dell'innovazione. In questo format in mentor dal futuro abbiamo ovviamente conosciuto tante diverse start up e una delle cose che abbiamo fatto in tutti gli altri episodi è quello di andare a raccogliere sempre delle parole chiave quindi delle parole che ci aiutassero a capire il fenomeno delle start up app e farne tesoro all'interno delle nostre esperienze. Per esempio con bus for fun una piattaforma che si occupa di trasporti abbiamo parlato di pivot. Bus for fun è nata come una piattaforma che che lavora con gli eventi fisici e aiuta le persone a raggiungere questi eventi utilizzando mezzi non propri. Ovviamente questa start up ha dovuto fare un grande lavoro di pivot questa è la parola chiave e quindi di cambiamento del proprio modello di business perché sotto pandemia ovviamente gli eventi erano diventati illegali. Oggi è una delle piattaforme di riferimento per gli spostamenti casa lavoro e quindi a supporto delle aziende e delle organizzazioni. Un'altra start up che abbiamo intervistato si chiama Enerbrain. Enerbrain ormai non è più una start up è già un'azienda in fase di scalabilità internazionale e con loro la parola chiave è stata guida automatica. Enerbrain infatti si occupa di gestire in modo automatico le funzioni di vita di un edificio per fare in modo di risparmiare quindi di avere un impatto sostenibile nel futuro. Allora guida automatica è un termine importante perché è un termine che ha a che fare non solo ovviamente con il loro modello di business ma con tantissime delle attività future con le quali noi tutti avremo a che fare dai lavori, da colletti bianchi quindi da lavori di ufficio fino a tutto quello che ha a che fare con la produzione industriale. Prometheus. Prometheus è un'azienda meravigliosa, una start up che si occupa di device medicali, nello specifico di cerotti stampati in 3d che una volta in cui vengono applicati vengono assorbiti dal corpo, dal corpo umano. Allora per loro la parola chiave che ci hanno insegnato è traction, la capacità di poter mostrare ai propri investitori come la propria idea sta avendo una attrazione reale sul mercato. Nel loro caso per esempio hanno lavorato in modo controintuitivo rispetto al mondo farmaceutico. Il mondo farmaceutico cerca subito di creare dei device per il mondo medicale umano perché lì c'è il grosso del valore, del valore di mercato da poter portare, mentre invece loro hanno dovuto partire dal mondo animale per costruire in modo più veloce il business case che gli permettesse di ricevere i finanziamenti per poter andare poi a costruire i device per il mondo, per il mondo umano. Un'altra startup che abbiamo intervistato si chiama Flying Basket. Flying Basket si occupa di trasportare attraverso dei droni degli imballi pesanti.